Il vuoto legale. 2.4. Il vuoto legale. E invece è proprio così. Lu non suona perché non ha più il piano e non sa dove suonarlo. Ridateglielo immediatamente. Chi ha potuto far accadere un disastro simile, mi chiederei? Ridateglielo immediatamente. Ma chi sta commettendo questo errore non vuole ascoltare. Eppure anche lui lo ha ascoltato nella vita il pianoforte, le è piaciuto e ora, dal posto in cui siede più in alto degli altri, non riesce a giudicare, impugna un vuoto legale e applica uno stop della rappresentazione a chi rappresenta il mondo. Oggi il mondo sembra cieco dinanzi al dovere di rispettare l'artista e colui il suo lavoro, l'opera, quindi il luogo dove la genera. Sembra così scontato. Eppure non lo è. C'è stato un problema da qualche parte che tutti hanno trascurato e non dandogli importanza siamo arrivate ad una sorta di società ostile all'arte e ad una legge punitiva nei confronti dell'artista, il che, al di là del mio caso, solleva una questione gravissima, molto di più di quanto ci si immagini. Chiedo quindi all'organo preposto dallo Stato a occuparsi dei beni culturali di cui fanno parte alle canzoni, di riempire questo vuoto con articoli nuovi o modifiche dei precedenti e di incominciare ad accorgersi che un artista vivo e funzionale è una risorsa per il Paese, l'ufficializzazione dello status è urgente e necessaria. È giunto il momento di definire e delineare i tratti, le aree di competenze, le caratteristiche essenziali dell'artista, per non permettere che sia privo di garanzie solitario e lasciato a sé. La categoria dell'artista è da tutti conosciuta superficialmente, nozionisticamente, ma non esiste un ufficiale categoria professionale, quindi è come non avesse diritti. È assurdo, faticoso, è improduttivo tutelare opere d'arte, conservare monumenti, proteggere territori e non pensare a chi queste cose le crea. Che senso ha considerare un capolavoro, un romanzo e fa crepare in miseria lo scrittore? Che senso ha dichiarare che una mia canzone è la più bella canzone italiana del millennio e disperdere il manoscritto originale distruggendo il pianoforte con cui l'ho scritta? Non curarsi degli artisti e non curarsi dell'opera d'arte. Si tratterà semplicemente di produrre dati oggettivi per ottenere un riconoscimento di status presso un ufficio pubblico, mediante la compilazione di un questionario, mostrando l'esistenza del proprio operato sotto forma di opere realizzate, contestualizzandole sia in termini di mercato che di significato e ruolo nel percorso artistico personale, poiché la maggiore problematica è in merito all'oggettività che è concretamente incontestabile e vince sulla discrezione della discrezionalità delle opinioni. Esistono molti modi per qualificare una persona col titolo di artista e non sono dati relativi e soggettivi, ma inequivocabili e documentabili.